Buongiorno da Isabella, sono qua a presentarvi la nuova veranda ad aria Ypsilon con la nuova pompa Isabella a doppio pompaggio poi mollate, per rifinire avete il pompaggio breve pompa sia in pressione che in estensione è una veranda utile per i brevi weekend velocissima da montare, pressione a 9 atmosfere solo Isabella arriva a queste atmosfere riparo da vinto e pioggia grazie a tutti grazie a tutti